Vicenza, bicicletta cerca padrone. Questa la bici ritrovata in Viale Venezia, nei pressi della stazione. Nessuno ancora ne ha denunciato il furto, ma quel che si sa è che è stata sottratta al legittimo proprietario, che qualora la riconoscesse dalle immagini, è invitato a presentarsi in questura per rivendicarne la proprietà. Con sé bisognerà avere uno scontrino o prove dell'avvenuto acquisto.